Iniziamo per il premazone. Conte Claudio, siete venuti a sposare questa donna? No. A prendere in sposa questa donna. A sposarmi dovete prezzarci voi. Signorina Ero, siete venuti qui per essere presa in sposa. Hai qui presente il conto di Claudio? Sì. Se l'uno all'altro di voi conosce qualunque impedimento o procedione, sull'anima vostra vi domando di mind-star. Ne conoscete nessuno, eh? No, signorina Ero. Voi, Conte? Beh, cosa rispondere io per lui, no? Cosa non lo sono fare i conti? Cosa non sono capaci di fare? Cosa non fanno ogni giorno, senza sapere quello che fanno? Quante stiamo a passione, c'è che ci siamo, e nemmeno a cercare il conto di nero, 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 nero. Pratico, e voi vale, non sentite lì. E con anche un libro di sposto, che voi avete dati che si fanno giù la sua figlia. Certo, liberamente come Dio era da me. Ma io ogni volta cosa che pianocchia è che non è il valore che non sono tanto vivo e prezioso. Ma niente. L'unica è per seguirli la ragazza. Grazie a tutti. Leonardo, riprendetevi! E' posto. Agli amici non si occupano della ragionanza. Costello, costello ma anche l'abica d'aspetto. Ma guardate l'ora, guardate la professore emergirà, che a quelli parvenzi diventerà incapazio di nascondere il sito. Eccolo. Non giudereste. Tutti voi che vedevi, vedevi, è far giù la tua situazione. Beh, vieni andate. Che c'è andate? E la conosce il valore di un ecco di studio. Il discorsore non è modesto. Eccolo! Ma che intendete di ascoltare? E intendo di nominirli a una gloria padrà. Sì, sì, sentete già, diciamo, è sconfiggita la sua legge di parola? So cosa volete dire. So cosa volete dire, se l'avessi conosciuta di essere raccogliato con Marino, hanno urlato così, vengono delle latissime. No, no, no. Mai, poi mai la riprende parola in un po' più. Ma la fratella e la sorella è sempre mostrata. Ricorda se ti pensi e riesci comunque. Ma io? Io mi sono forza a parte di persa. Allora, appunto, passa. Poi mi avrete casa, come la gente fa tutta l'imposso. E invece le mie zani, spregatevi bene. Ma sta bene il mio signore. Bello. Che sta facendo così. E voi, caro Giacomo, non è mai un figliante. Cosa dovrei dire? Sono disonorato a me. Che ho fatto di tutto per unire il mio amico. Ma una squadrina. Sento quello che sento o sto sognando? È tutto vero. E questo è il pannello del peggio. E questo viso. Questo viso. Non è di errore. E questi non sono i nostri occhi. Sì, sì, mi conto. Ma io non capisco cosa volete dire. Consentitemi di portare lo suo domanda, vostra figlia. E a voi, con quella giusta autorità potenzialmente su di lei, ditele di non mentire. Se sei mia figlia, tu non ti vuoi dire la verità. Ma che si dica una ricassa per il preso? È per farmi rispondere al vostro nome. Non mi chiamo, è ero. È un impatto, è un'interazione. Solo ero che mi fanno già erano i punti ero. Chi è o non mi parla di questa nota alla vostra finestra? Fra le dodici e l'una del Sede Verde, se lo siete, ti scrivi a rispondere. Non ho parlato adesso una colore amazzinosa. E dunque non siete meggi. Donato, mi vuole dire che io vieni. Ma sul mio nome, io, mio pretendo, il conte che qui soffre, l'abbiamo visto all'unità, a lui indicare attacciarsi alla finestra del suo balcone e parlare con un suo drudo. E abbiamo più quali, la perfetta faranotto. ci ha confessato i mille incontri avuti con lei a mille volte. Addio, prego, 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 prego. Addio, prego, 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 prego. Preccando a te, preccando a te, la stagionevo in un catasoro, e sulle mie patte, grande eletto sospetto, che vogliono la mia bellezza in pensieri di pericola, e ten % nel mese di terra, perché l'entrano! Non ti aspettate! Nessun pugnale ha una fonte per lei? Lasciate stare Sì